Innanzitutto benvenuti a tutti e ci eravamo lasciati nella puntata precedente con la considerazione dell'importante differenza fra cosa e come. La domanda di origine in effetti era attraverso le misure possiamo avere qualche indicazione utile per cercare di prevedere il comportamento sonoro di una catena d'ascolto o di un singolo elemento. In linea di massimo potremmo rispondere già direttamente di no a questa domanda e in qualche modo chiudere qui il nostro dialogo ma c'è una considerazione molto importante che le cause degli effetti si collocano in una dimensione superiore agli effetti stessi per cui sarebbe interessante importante cercare di approfondire maggiormente quali possono essere tutti gli aspetti correlati alle motivazioni che ci portano a rispondere no a questa domanda e attraverso questo percorso magari acquisire degli elementi che ci consentono di rapportarci in maniera più evoluta e più matura alla nostra grande passione della riproduzione musicale. Se vi ricordate Alberto si era sacrificato per un eccellente piatto di minestrone di verdure con le verdure fresche dell'orto rinunciando ai suoi preferiti tortaie di zucca che in quel caso specifico erano di origine industriale. Detto per inciso per ringraziare di questo di questo sacrificio gliene ho comunque fatto recapitare una porzione presa direttamente dalla fonte sorgiva. Beh tra l'altro erano davvero molto buoni ma oltretutto non ti ho chiesto dov'è che li hai presi? Allora li ho presi la settimana scorsa andando a Mantua come sai una due volte al mese vado a Mantua da una persona che possiamo dire è un insegnante di canto anche se il suo lavoro è più ampio rispetto a quello di focalizzarsi solo sulla tecnica sulla tecnica vocale e ripensando questa persona potrei potrei citare un aneddoto che può essere esemplificativo di dove può spingere la capacità di percepire le cose. Mi ricordo che anni fa in una in una lezione ho fatto presente a Elisa, Elisa è il nome di questa splendida signora che aveva un dente che mi faceva male allora lei è stato un attimo a pensarci e fa guarda Enrico allora potremmo fare questa lezione utilizzando un vocalizzo da focalizzare proprio sul dente che tu senti abbia abbia un problema e ha voluto sperare qual era esattamente il dente e qual era la natura del problema che mi dava questo dente. allora abbiamo iniziato lei al pianoforte io col canto a fare questo vocalizzo dopo qualche qualche primo giro di vocalizzo si interrompe un attimo e mi dice Enrico il dente è esattamente quello su quale sei vocalizzato ma dovresti cambiare leggermente il vocalizzo perché sta vibrando la dentina e non lo smalto e sarebbe meglio mettere in risonanza lo smalto e non la dentina. se non fosse che io conoscevo questa persona già da parecchi anni il grado di sensibilità sia acustica sonora ma anche di sensibilità su altri piani sarei rimasto sbicottito di fronte a un'affermazione del genere invece conoscendolo ho cercato di indirizzare più il vocalizzo sulla parte che lei suggeriva e questo è un esempio per dire quanto può portare fino a che punto può portare la sensibilità di una persona. Lei ha fatto tutto questo naturalmente senza nessuno strumento di misura se non le sue orecchie e le sua capacità di dare un significato a ciò che stava ascoltando. Ok entrando adesso nel vivo della questione possiamo estendere il concetto del cosa e del come? Allora potremmo dire che il cosa è come se descrivesse il perimetro dell'esperienza ovvero i dati oggettivi che in qualche modo la stabiliscono e la determinano invece il come è il contenuto stesso dell'esperienza cioè ciò che c'è all'interno di questo perimetro descritto da il cosa. Potremmo dire ad esempio che il cosa è più legato alla natura maschile il come è più legato alla natura femminile che ha una maggiore capacità in certe situazioni di cogliere di sentire di percepire l'uomo è più incline all'azione quindi al cosa. Potrei anche a questo riguardo citare un esempio e un antidoto. Non ricordo se tu Alberto eri presente a questa situazione che è capitata un paio di mesi fa aveva chiesto appuntamento un signore che aveva intenzione di cambiare un suo componente dell'impianto quindi prendiamo appuntamento per un giorno arriva insieme alla moglie. Quando sono entrati nella stanza c'era una musica di sottofondo probabilmente erano i canti gregoriani quelli registrati a Monaco ma era musica proprio di sottofondo insomma. Allora il signore ha impiegato quasi un paio di ore per cercare di mettere a fuoco perché e collegami questo capisco non capisco ma mi sembra che il mio forse non è. Insomma dopo due ore cominciava un po' a diradarsi la nebbia che avvolgeva la sua percezione su quali erano gli elementi in gioco le differenze fra una percchiatura e l'altra. E a un certo punto dopo come ho detto saranno passate un paio di ore la moglie sempre seduta vicino in religioso silenzio senza disturbarlo il signore si sente di chiedere un parere alla moglie e allora gli chiede ma cara tu che cosa ne pensi? E lei con una semplicità quasi disarmante con una gentilezza e una grazia che solo per quella meritava di essere sposata gli ha detto caro appena siamo entrati nella stanza ho subito sentito che quell'impianto qui era molto meglio del nostro. Lui è rimasto un po' così poi ci ha guardato e ci sente meglio lei di me. Ok sembrerà un po' un gioco di parole ma nella sua essenza il come che cosa rappresenta? Ecco qui entriamo un po' nel vivo di quello che può essere il contenuto di questa di questa puntata. Potremmo dire che il come in realtà è uno dei tanti modi che abbiamo per poter descrivere il concetto più alpio della qualità. Di primo occhito saremo portati a pensare che la qualità è un termine abbastanza semplice e banale che utilizziamo spesso nel corso della nostra della nostra vita ma se ci soffermiamo un attimo a cercare di descrivere e definire compiutamente che cos'è la qualità ci troviamo in una situazione decisamente problematica nel senso che ci accorgiamo che in realtà non abbiamo la possibilità di descrivere compiutamente questo concetto. Possiamo in qualche modo descrivere degli ambiti in cui magari percepiamo o non percepiamo una qualità maggiore minore eccetera ma definire esattamente che cos'è la qualità è praticamente impossibile. E' come se anche in questo concetto si arrivasse un po' al limite di quello che è il linguaggio verbale che è in grado di comunicare anche in modo molto efficace alcuni concetti alcune cose ma quando si tratta di riferirsi a degli archetipi o a delle entità primitive comincia a mostrare i suoi limiti. E' un po' facendo un esempio matematico come se si volesse cercare di descrivere i numeri primi in relazione ai numeri che non sono primi. E' vero esattamente il contrario. A tal riguardo per chi fosse interessato consiglierei la lettura di un libro che si intitola Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. In realtà questo libro non parla né della motocicletta e non è tantomeno un libro di officina ma parla di un percorso, di un viaggio per certi verso un viaggio reale ma anche un viaggio metaforico simulato, di una persona che entra per la prima volta in contatto col concetto della qualità, si pone una domanda che lo porterà poi a fare tutto un percorso di analisi, di introspezione per arrivare a delle conclusioni, delle considerazioni che non anticipo e le voglio lasciare eventualmente che fosse interessato a leggere il libro. Un libro molto interessante. Ma all'atto pratico come possiamo applicare il concetto di qualità? Allora direi che per applicare il concetto di qualità possiamo introdurre una definizione in qualche modo nuova in questo discorso. E' come se nel nostro agire dovessimo tenere presente due concetti molto importanti. Uno è il concetto legato al quantificare, quindi dare una quantità a qualcosa. E l'altro è il concetto di qualificare, ovvero dare una qualità al fenomeno che stiamo osservando. La quantità è legata all'ambito materiale, in qualche modo possiamo dire che è la corrispondente del cosa di cui abbiamo parlato precedentemente. La qualità è invece un ambito che si colloca in un piano che è per certi versi trascendente rispetto alla materia. E' l'analogo del come, però è un concetto più ampio rispetto a quello del come. E quindi nell'analisi di un fenomeno, può essere l'analisi di un apprecchiatore audio, di una catena di deproduzione, è molto interessante osservarla in termini di quantificare e in termini di qualificare. Esiste un grande problema che finché rimaniamo nell'ambito della quantità, quindi di quantificare, abbiamo sicuramente, come visto nella puntata precedente, molti strumenti di analisi e di misura che ci consentono di stabilire una quantità di un fenomeno, di un oggetto, di qualcosa che stiamo osservando. Se invece ci spostiamo nell'ambito di qualificare un fenomeno, lì la situazione diventa molto più complessa perché non abbiamo nessuno strumento pratico, materiale, che ci consente di fare questo. Possiamo solo utilizzare la nostra sensibilità, il nostro sentire interiore e cercare di descrivere eventualmente quello che abbiamo sentito e percepito. Ma tradurlo in una quantità è praticamente impossibile. Ma a tuo modo di vedere abbiamo qualche strumento per oggettivizzare la qualità? Come ho detto prima, è molto complicato oggettivizzare la qualità. Se vogliamo tentare in questa direzione, l'elemento fondamentale che ci può aiutare è mettere a punto un algoritmo predittivo, ovvero qualcosa che ci consenta di mettere in relazione degli aspetti fisici, materiali che possono essere misurati con delle percezioni sensoriali che ci possano in qualche modo aiutare a descrivere la qualità percepita. Ciò che complica molto, almeno uno degli aspetti che complica molto questo ipotetico algoritmo è che in realtà noi conosciamo molto poco di come funziona il nostro sistema d'ascolto. In qualche modo sappiamo che la pressione sonora investe il nostro timpano. Il timpano e tutto l'orecchio traduce questo segnale in un segnale nervoso che arriva al cervello. Ma come il cervello elabori, attribuisca un significato, provi delle sensazioni, faccia delle considerazioni a riguardo di ciò che ha sentito, questo fino adesso è un mistero quasi insondabile. Per cui l'unica cosa che posso ipotizzare potrebbe essere fatta è un'interazione fra un soggetto che si presta a fare da ascoltatore e un altro soggetto che cerca di mettere in relazione queste sensazioni con dei risultati di eventuali misure. In questo processo molto spesso c'è un grande pericolo, ovvero quello di farsi a priori un modello mentale, un'aspettativa di quale potrebbe essere un meccanismo di influenza. Agire di conseguenza e, mia personale esperienza, nella stragrande maggioranza dei casi, le ipotesi che mi sono, che eventualmente è possibile farsi, si rivelano al lato pratico non verificate. In una situazione come questa occorre, per certi versi, un grande senso di umiltà nel riconoscere che l'ipotesi che avevamo fatto, sulle quali magari avevamo lavorato anche per giorni o settimane, alla fine si era rivelata fallace o ancor peggio forviante, nel senso che aveva forviato la nostra attenzione da altri aspetti che invece magari potevano essere ben più significativi. Un esempio tipico di questa situazione è il ritenere che una distorsione molto bassa, meno 100, meno 120, 130, 140 dB, possa essere associata a un suono di alta qualità. A lato pratico penso che esperienze di chiunque, avere constatato come i due fenomeni in realtà non siano per nulla correlati, anzi, magari è più facile trovare delle apparecchiature, con dei tassi di distorsione molto bassi, suonare in una maniera che il nostro orecchio riconosce non gradevole. Un altro esempio che potremmo fare per illustrare la difficoltà di mettere a punto questo eventuale algoritmo, immaginiamo di volere cercare di oggettivizzare com'è la percezione dell'orogramma 3D in una seduta d'ascolto. Chi ha indagato un po' in questo aspetto si sarà reso conto sicuramente come perché una catena d'ascolto riesca a ricostruire un ologramma 3D aderente a ciò che era stato registrato, credibile, realistico e coinvolgente, devono essere verificate moltissime condizioni. Diciamo che di base è un risultato che è quasi impossibile da ottenere. Quando si arriva ad avere quel miracolo rimane sorprendente essere immerso in un sono che ha quelle caratteristiche, ma altresì una volta che siamo arrivati a quel risultato basta nulla perché tutto collassi e si perda quella bellezza della scena sonora che si era ricostruito. Quindi immaginando alla difficoltà e alla delicatezza di tutti gli aspetti correlati a una percezione di questo genere risulta molto difficile immaginare di trovare un algoritmo che mi mette in relazione la percezione personale di questo aspetto con i risultati che mi possono dare alcuni strumenti di misura. Beh a questo punto mi viene davvero da pensare che il concetto della qualità sia davvero inafferrabile. In effetti se approfondiamo un po' il discorso e le metodologie che potrebbero essere messe in atto per cercare di afferrare il concetto della qualità andiamo a sbattere velocemente contro alcuni paradossi. Ad esempio il primo paradosso che mi viene in mente è che essendo la qualità frutto di una percezione del singolo individuo per poter afferrarla dovremmo avere uno strumento che ci consente di oggettivizzare questa percezione. Ma essendo la percezione all'interno dell'individuo è non accessibile. Deve essere l'individuo stesso che ci la comunica. Ma allora sarebbe molto più semplice se l'individuo stesso ci comunica in questo ambito specifico esattamente che cosa sente. Facciamo prima. Altrimenti diventa una macchina di ruide Goldberg oppure per chi se lo ricorda negli anni 70-80 andava di moda l'ufficio UCAS ovvero l'ufficio della complicazione degli affari semplici. Sarei anche tentato di aggiungere che se una persona ha veramente la capacità e la sensibilità di cogliere la qualità percepita in una catena di riproduzione probabilmente sarebbe meglio che metta questo dono, questo talento, questa sensibilità a frutto in un altro modo che non prestarsi a un esperimento di oggettivizzazione alla fine abbastanza sterile di per sé. Se invece una persona non è compiutamente in grado di percepire con grande raffinatezza gli ambiti qualitativi in realtà ci sarebbe da porsi una domanda. Se non è in grado di percepirli per questa persona è del tutto pleonastico sapere se questi ambiti esistono o non esistono. nel senso che al lato pratico per lui non cambierebbe nulla. Rimarebbe semplicemente una mera fascinazione mentale di per sé non utile. Quindi se siamo nella condizione che ci manca o abbiamo relativamente poca capacità da parte di noi stessi di cogliere gli ambiti più raffinati dalla qualità di una catena sonora probabilmente più che cercare conforto nel parere di qualcun altro o nelle misure sarebbe molto utile cercare di investire su noi stessi per cercare di migliorare la nostra sensibilità la nostra capacità di ascolto e la nostra capacità di cogliere quali possono essere gli aspetti più elevati e più importanti all'interno di una riproduzione musicale. Tuttavia in qualche modo vorrei rassegnare gli animi nel senso che se una persona per tutta una serie di motivi o di predisposizione non ha la capacità e l'immediatezza di cogliere alcuni aspetti della riproduzione sonora non è che si deve preoccupare di questo ecco nella vita abbiamo ben altri problemi ben altre situazioni delle quali occuparci con maggiore preoccupazione. sono convinto che col tempo con l'abitudine e anche con un'apertura maggiore magari certe capacità possono sicuramente svilupparsi. Adesso ti faccio una domanda che può sembrare un pochino contorta ma mi viene spontaneo chiedertelo ma se chi possiede la sensibilità per indagare queste correlazioni è forse meglio che si dedichi ad altro a chi resta il compito? il compito direi quasi un compito istituzionale spetterebbe agli addetti ai lavori ovvero chi a titolo professionale si occupa di questo settore dai progettisti ai costruttori ai negozianti comunque tutti coloro che in qualche modo stanno dall'altra parte e ci offrono la disponibilità di una catena di riproduzione purtroppo devo dire con un certo rammarico che non è per nulla frequente o consueto trovare all'interno di queste categorie di persone delle persone che abbiano un'intima frequentazione degli ambiti musicali e che in qualche modo quindi abbiano la conoscenza e la sensibilità per poter fare un lavoro di questo genere ad esempio quando ci si ritrova insieme magari a cena o nelle varie ferie nelle varie situazioni dopo i primi minuti di convenevoli i discorsi scivolano nel 99,9 periodico dei casi sugli aspetti tecnici a me personalmente dopo un po' questi discorsi vengono molto nuovi nel senso che li trovo di per sé sterili ad esempio vado con la memoria a un ascolto che mi è capitato qualche settimana fa all'interno di un'opera lirica c'era un frammento musicale lasciato al clarinetto basso io ero in una posizione abbastanza favorevole a pochissimi metri di distanza da questo strumento e sentire questo strumento scendere con le varie note man mano verso delle frequenze sempre più basse quasi infrasoniche ma con una tessitura con un colore con un'espressività che era stupefacente lascia veramente per certi versi commossi e disarmati rispetto alla bellezza di ciò di cui siamo investiti ecco mi piacerebbe che magari chi a titolo professionale si occupa di queste cose si ponesse la domanda su come poter fare per cercare di riprodurre così tanta bellezza nota margine se già io che ero presente non ho la capacità di descrivere ciò che il mio corpo il mio sistema percettivo ha provato ma in modo indissolubilmente chiaro non ho gli strumenti per poterlo descrivere come possiamo immaginare che una qualunque metodologia di misura possa essere in grado di fare questo e soprattutto visto il nostro ambito specifico di dire se tutto questo contenuto nella produzione che stiamo ascoltando un'ombiazione che talvolta ho sentito dire è che se l'orecchio sente delle differenze vuol dire che ovviamente queste differenze esistono e se esistono le possiamo misurare allora anch'io come puoi immaginare ho sentito in più di un'occasione un'affermazione di questo genere per quello che riguarda la prima congettura non possiamo non essere d'accordo nel senso che se sentiamo delle differenze perché queste differenze esistono relativamente alla seconda congettura ovvero se esistono le possiamo misurare qui avrei qualcosa da eccepire nel senso che implicitamente questa congettura parte dal presupposto che le differenze esistino e si manifestino in un ambito materiale in un ambito in cui possono lavorare gli strumenti di misura ma se vogliamo essere intellettualmente onesti non possiamo essere certi di questo ovvero dobbiamo considerare l'ipotesi che le differenze si collichino in piani che trascendono il piano materiale e quindi non sono raggiungibili attraverso delle misure condotte in un piano diverso a questo riguardo mi sentirei di citare un un aneddoto un fatto che mi è capitato è stata una cosa intima però in qualche modo mi sento in questo contesto di ricordarla perché può essere di utilità come sai io sono grande amante del canto specialmente del canto lirico anche perché la voce è in grado di veicolare qualcosa di molto profondo dall'essere umano quindi non è solo una sequenza di note più o meno intonate c'è dentro molto di più quindi in quest'ottica mi piace ascoltare il maggior numero possibile di voci abbiamo la fortuna che a pochi chilometri da noi a Busseto una volta all'anno fanno il concorso delle voci verdiane uno dei giorni è aperto il pubblico è il giorno delle semifinali ovvero decidono magari fra quattro e cinquecento persone quelle che potranno andare in finale nelle semifinali è possibile ascoltare in una giornata tipicamente fra l'ottanta e un centoneo di voci a parte il fatto che alcune volte può risultare un po' ripetitivo ascoltare quattro volte di fila la stessa aria però anche in questo ci sono degli elementi di grande utilità perché ascoltando da cantanti diversi magari la stessa aria in sequenza hai la possibilità di percepire meglio qual è la tecnica vocale l'espressività che riescono a dare eccetera comunque questo verrà per descrivere il contesto nel quale si è verificato il fenomeno di cui volevo fare memoria insomma ricordo chiaramente che quel giorno è venuto fra i partecipanti un baritono coreano il quale sapendo quanto possono essere per certi versi crudeli i pianisti ufficiali che accompagnano i cantanti si era portati il suo pianista quindi sale sul palco i due pianisti si scambiano la posizione la giuria gli chiede che aria che aria aveva preparato la giuria fosse un po' indisposta da questo fatto che si era portato il pianista gli cambia l'aria perché aveva possibilità di imporre al cantante di scegliere direttamente la giuria quale aria quale aria doveva portare io mi ricordo era in un palco distanza da lui 5 6 metri ecco il cantante ha accolto senza particolare disappunto la scelta della giuria ha guardato la pianista si è concentrato in se stesso è stato in silenzio per qualche secondo ecco io ricordo chiaramente mi vengono ancora i peli nella pelle in questo momento che lui ancora prima di cantare aveva creato nell'ambiente una tale situazione energetica per la quale io non ho potuto trattenere le lacrime praticamente il mio sistema percettivo anticipato l'evento di quello che sarebbe accaduto ancora prima che lui cominciasse a cantare io mi sono emozionato allora a chi sostiene che se esistono delle differenze le possiamo misurare vuoi chiedere a queste persone per cortesia di darmi uno strumento di misura che sia in grado di fare una misura di quello che è accaduto quel giorno ecco ad esempio in un caso come questo che mi hai citato e tu hai anticipato la domanda in quali ambiti dovremmo indagare secondo te? allora la risposta potrebbe essere questa ecco nel libro dello zen e l'arte della manutenzione della motocicletta mi hai segnalato ieri che c'è una frase che ti ha particolarmente colpito se la puoi leggere può essere di utilità in questo momento sì infatti me l'ero portata perché mi ha colpito veramente molto te la leggo il buddha il divino dimora nel circuito di un calcolatore o negli ingranaggi del cambio di una moto con lo stesso agio che in cima a una montagna o nei petali di un fiore in questo contesto dobbiamo riconoscere purtroppo però che in molte apparecchiature destinate alla riproduzione musicale questo agio divino si distingue per la sua assenza invece se qualunque dispositivo per la riproduzione musicale una volta inserito nella vostra catena vi evoca questo concetto allora sarete danno di dire che è un oggetto di qualità ok e in conclusione cosa possiamo anticipare della prossima puntata allora nella terza e ultima puntata relativamente alle misure vorrei parlare di un argomento interrogante ovvero come suonano gli strumenti di misura ma perché scusa gli strumenti di misura hanno un suono ebbene sì ok beh allora attendiamo alla prossima e grazie grazie a voi grazie a voi